Ciao ragazzi, voi chi siete? Negli Against the System. Da dove venite? Da Firenze, cediamo a D'Arno. Potete raccontarci brevemente il vostro progetto musicale? Il nostro progetto musicale? Prima di tutto noi facciamo quello di carcore. Direi un genere un po' conosciuto in Italia, soprattutto dove siamo noi, in Toscana. Inesistente. Inesistente. Iniziamo a farlo conoscere, a farlo conoscere noi, a farlo conoscere noi in giro, a conoscere il nostro pensiero, quello che esprimiamo nelle nostre canzoni, e sperare come piace a noi anche ad altre persone piacere. Cosa ne pensate di questo evento formativo Music Live Experience? Gantt. Bello. Gantt. E' molto utile per qualsiasi band emergente. Anche perché non c'è mai di scoprire il genere. Sono fatto dove vende emergente, purtroppo, a meno le schiappe si fanno vedere un congire. Che è vero. Fate un saluto agli amici di School Break. Ciao School Break. Ciao School Break. Ciao. Ciao.